Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il terzo episodio di Scriberonauts Unlimited Ragazzi, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti che lasciate a questo video, per i suggerimenti, per il supporto che state dando e che darete a questa serie e vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, trovate il link in descrizione e anche se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni troverete il link per poterlo fare in descrizione Detto questo partiamo con il video Allora ragazzoni, io non so bene come funzioni, penso che qua già ci siamo andati l'altra volta che c'era l'elicottero Proviamo ad andare qua, no non mi ci fa andare, qua mi ci fa andare la galleria delle virgole Boh, andiamo, vediamo, vediamo, teletrasporto stile Goku, il nostro Maxwell è un Goku, benvenuto alla galleria delle virgole Ok, ci sono tanti quadri, c'è una guardia, un pittore, un pinguino e qualcuno che sta facendo qualcosa Allora vediamo un attimino, sicuramente la signora già vorrà aiuto, era logico Vediamo cosa vuole, uno di questi manufatti è falso, aiutami a scoprire quale Martello E lo rompiamo, lo possiamo rompere? Vai Maxwell, rompilo, attacca Non penso sia la soluzione giusta, no, no, decisamente no Niente raga, non so come aiutare la tizia, mi dispiace, non, questa che problema, mi serve qualcosa per collegare gli oggetti Crea, colla, colla Diamo la colla alla tizia A posto, e uno ci siamo riusciti a farlo, raga, questa è la molto più semplice dell'altro Il pinguino, cosa vuole il pinguino? Aiutami con la guardia e le telecamere in sicurezza, così posso riprendermi il diamante Ok, accarezziamo il pinguino, è carino, che è carino il pinguino, ok Guardia di sicurezza Dobbiamo aiutare la guardia di sicurezza Rotta Aggiungi oggettivo, rotta Perfetto, la telecamera è sistemata La poliziotta, gli diciamo, blocco appunti La distriamo a blocco appunti Crea un oggetto Mettiamo un ladro Ladro Così mettiamo un ladro E in teoria la guardia dovrebbe andare a catturare il ladro No Dove è andato il ladro? A rubare qualche altra cosa Perfetto, posso mettere un aggettivo? Blocca appunti Aggiungi oggettivo Addormentata Addormentata La guardia è addormentata e il pinguino è riuscito a fregarsi Perfetto Siamo riusciti anche ad aiutare il pinguino a rubare il diamante Grande Mitico Mitico Cosa vuole qui? La ragazza in questo quadro sembra sola Crea oggetto Uomo Uomo Pitturato Pittorico Uomo pittorico Riesce a metterlo lì dentro Perfetto So di tutto in natura morta Siamo riusciti a fare anche questo Che è successo? Me l'ha data la cosa? Sì Siamo riusciti a fare Che problemi? Ah lui non capisce perché Vabbè Non ti preoccupare zio Andiamo su Andiamo su Andiamo su Ah il ladro è ancora qui Lo buttiamo in ladro che non ci serve Ok Allora Questo sicuramente sarà un qualcosa Completa la mostra Cristoforo Colombo c'era Non ho capito Cristoforo Colombo Quindi Ci possiamo mettere Caravelle No caramelle Le caravelle Di Cristoforo Colombo Nave Siamo più diretti Nave Nave Una bella nave Per Cristoforo Colombo Perfetto Siamo riusciti a prendere anche la nave Di Cristoforo Colombo Ok Questa che problemi ha? Completa la mostra Clopata di cera Crea oggetto Piramide Piramide Andiamo Piramide Egizia A posto Ok Questa l'abbiamo presa pure Qui Cosa Chi è questo qua? Completa la mostra Benjamin Franklin Aquilo Ah è giusto Ok La chiave del successo Ricordavo giusto Che Benjamin Franklin Era quello dell'aquilone Col fulmine Ok Questo Completa la mostra George Washington Crea oggetto Aspetta Crea oggetto Vediamo se riusciamo Così mi piace Casa Bianca Casa Bianca Casa Casa Unifamiliare La casa Bianca Più casa Bianca di questo Mai dire bugie Ma che cavolo è Ma che cavolo è raga Va bene Va bene Non facciamoci domande Riusciamo ad andare da qualche altra parte No Dove siamo adesso C'è una missione Raga c'è una missione Patrocinatori Schiznosi Aiuta Max a creare un'opera Che di sicuro piacerà Ai patrocinatori Del museo Disponibili a tutto Raga Disponibili a tutto Che dobbiamo fare Siamo diventati degli artisti Quindi È il giorno di apertura Del museo Metti qualcosa Nelle cornici Che piacerà sicuramente Ai patrocinatori Del museo Perfetto Ok Pizza Pizza Margherita Che che non piace La pizza raga Una bella pizza Margherita No 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 Nel museo Perché non gli piace Sole Un bel sole Perfetto Che illumina il quadro Questo l'abbiamo fatto Poi Arriva qualcun altro Cosa piacerebbe a questo patrocinatore Mettilo nella cornice Ok Medusa Ah questa è medusa Quindi possiamo metterci Un bello specchio Specchio ti piace Lo specchio Ci sta un bello specchio Perfetto E anche questa l'abbiamo fatta Raga Andiamo avanti Sta arrivando un altro Ok La zucca Ehm La zucca Metti un elemento artistico Crea Ci mettiamo un cavallo Chi non conosce Sleepy Hollow Cavallo 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 Un bel cavallo Ti piace Bello così Alla grande Dai Dai Questo che cosa vuole Uno I sette nani Biancaneve Dico Biancaneve ci sta Che è un oggetto Quello lì sembrerebbe un nano Quindi Biancaneve Biancaneve Zio Non conosci Biancaneve Biancaneve non gli è piaciuto Allora mettiamoci Babbo Natale Babbo Natale Sembra uno degli ignomi Di Babbo Natale Ci mettiamo Babbo Natale gli è piaciuto Ah Biancaneve no Babbo Natale si Hai qualche problema Di tendenza zio Oh Clicca sulla destra di Maxwell Per centrare la camera su di lui Si Ok Andiamo artista Maxwell Mamma mia come corre bene Maxwell Mi piace troppo come corre Ok Recuperiamo la stella Raccogli zio E questa ce la siamo portata a casa Lente Di Ingrandimento Lente di ingrandimento Zia Dai Che ci voleva tanto Oh Mi hanno fatto completato Livello completato Ce l'abbiamo fatta raga Bastava una lente di ingrandimento Ci ho perso mezz'ora Per cercare di capire Quale Quale era L'obiettivo da fare Come si fa uscire da questo Da questo locale Perfetto Ce l'abbiamo fatta Capitale Stiamo facendo tutti quanti I livelli Praticamente qua Andiamo qui Andiamo qui Facciamo un altro Raga Che siamo venuti a fare qua sopra Che cosa Non vediamo nulla Ci sono nuvole Crea oggetto Ventilatore Un bel ventilatore Piazzato qua Piazzato qua E le nuvole sono andate via A posto È tornato l'arcobaleno Una bellissima giornata Mitico E la zia era pure questo Il problema Turista Ok Ce l'abbiamo fatta Va bene Poi poi Facciamo altro Qui qui Cosa c'è da fare qui Caserma dei pompieri Dai Fiamo pure la caserma dei pompieri Raga Allora Iniziamo subito Con la stella qua sopra Trasforma una station wagon In un'autopompa Tutte le autopompe sono qua Quest'auto deve Diventare un camion dei pompieri Comincia per nici anno l'auto Quest'auto Ok Aiutami a verniciare l'autopompa Sì vorrei aiutarti Colore Colore Tieni Così puoi verniciare la macchina Ok E questa è andata Poi Lo zio qui che problemi c'ha L'auto deve essere Udibile Dai il DJ qualcosa di Di rumoroso Da attaccare all'autopompa Ok Cassa Musica Cassa Medicinale No va bene Andiamo su qualcosa di semplice Raga Sirena Dai Sirena audio Bello così Ok Montaci la sirena Gli è piaciuta Una sirena D'allarme sulla Cosa Pomp E' bellissimo Quest'altro Che è il pompeone Quasi pronto a intervenire Dagli uno strumento Per fare il suo lavoro Ehm Dagli uno strumento Per dargli il suo lavoro Scrivi oggetto Ehm Estinto Estintore Dagli così zio Con l'estintore Andiamo a comandare Bella così Ce l'abbiamo fatta? Forse si C'è la fila Il traffico è terribile Aiuta l'auto a superarlo Ehm Come Mh Aiuta l'auto a superarlo Ehm Ehm Ali Ali Mettiamo le ali Alla macchina E la macchina Riesce a volare Via Ma siamo dei miti Raga Spettacolo Ma quanto mi piace Questo gioco Raga Dove sta Maxwell A Maxwell Riesce a venire No 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 Devi semplicemente Venire a recuperare la stella Dai 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 E E altra stella recuperata Bella così Abbiamo preso 5 starite Alla grande Continuiamo Va bene ragazzi Allora io mi fermerei qui Il resto dei pompieri Ce lo facciamo nel prossimo episodio Fatemi sapere nei commenti Se il gioco vi piace E Detto questo ragazzoli Grazie per i like Per i commenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao